buongiorno a tutti ben arrivati a un nuovo video io sono sempre Flavio vi ricordo prima di iniziare di lasciare un like al video iscrivervi al canale magari un commentino tattico vi ricordo anche che su instagram e tutti i social li trovate nella descrizione del video sto facendo il giveaway per questo fantastico token realizzato dal buon zippo mtg che si occupa di alter head sulle carte quindi in questo caso il token pianto per ogni giocatore di magic che sa che deve applicare la tecnica del piangina è lì pronto per voi a essere spedito da me a voi in regalo mi raccomando andate e seguite e cercate anche voi di vincervelo allora cosa giochiamo oggi giochiamo uno dei mazzi che ha fatto top nell'ultima settimana che fa top da qualche settimana in realtà ed è geskai wildfire che ha avuto qualche in realtà un'aggiunta principale della nuova espansione e vediamo subito un po come giochiamo control in pauper in control che punta fare vantaggio umana con la possibilità di giocare i bridge indistruttibili e cleansing wildfire e poi cerchiamo di gestire il board con delle spot removal gestire la pila con i counterspell e fare value con il nostro efimerite e tutte le nostre creature o late to dinner vi ho già raccontato più o meno come il mazzo comunque vediamo il diviso per parti come al solito abbiamo una mana base composta da 22 terre 8 sono ponti 1 è un hash barrens che va molto bene con le nostre due copie di preordain e scusatemi di brainstorm le nostre quattro copie di preordain e poi abbiamo un'infilata di basiche che non finisce mai più tra cui se togliamo 22 meno 8 sono 14 13 11 9 isole abbiamo 9 isole 2 montagne 2 pianure poi nei drop a 1 abbiamo delle spell per far anzi dividiamole così le nostre spell per far value sono queste le divido qua tac tac voilà e voilà si in realtà possiamo metterci anche gli archiomanti allora abbiamo degli efimerite che vanno bene con tutte le vesti che abbiamo che sono un kenquartifice artificer e quattro drifter tre archiomanti e un don bring il cleric già main deck tutti loro vanno anche molto d'accordo con il nostro letto dinner mettiamo qua quello che abbiamo parlato e anche il quattro per the augur of bolas carta che è scesa un po in disuso dopo l'entrata nel formato di fallage archeologist ma in questo mazzo in realtà ci piace molto poi diciamo abbiamo due brainstorm e quattro per dire come peschini secchi oltre a quattro cleansing wildfire che sono dei peschini al buio che però ci permettono di rampare che in questa strategia è molto molto importante le partite dove saremo sul play facendo wildfire di secondo sul nostro land indistruttibile sono veramente veramente forti poi come gestione del tutto abbiamo quattro counter spell due casting to the fire che ci permettono di fare o due danni a due creature cioè un danno un danno a due creature ma mai due danni a una sola creatura triplo scred è il motivo per cui abbiamo le nostre isole scusatemi le nostre terre base neve e doppio lightning bolt che può essere sia un removal sia una chiusura grazie ad archiomante questo è bene o male il tutto mi sembra molto semplice in realtà ma è molto complicato da far girare è uno dei mazzi che ritengo che sia più difficile nel formato e che richiedano più testing io non ne ho tantissimo nel senso che l'ho giocato per del tempo addietro ma poi l'ho lasciato per riprenderlo adesso perché vedevo che faceva qualche top vorrei provare a vedere se giocarlo effettivamente vale la pena quindi lanciamoci su un video di side abbiamo dieci blaste sei blu e quattro rosse triplo revoke existence e un altro casting to the fire in realtà sarebbero credo due altre casting to the fire adesso vado a vedere la lista e ve lo dico e invece era la settima blasta così blu quindi così arriviamo a undici in totale di side quindi vogliamo stare veramente snelli 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 contro mono rosso e avere qualche risposta cheap anche contro mono blu che tanto viene il prezzo già main deck da casting to the fire a parte ninja potete di powers e anche di side casting to the fire va bene andiamo a vedere qualche partita sono curioso eccoci siamo sul draw abbiamo cast wildfire cioè possiamo castare wildfire di secondo sulla nostra landa inistruttibile come dicevamo prima va bene ok siamo contro botti abbiamo sette blaste quindi suppongo che il match up non sia per forza fantastico detto che cast into the fire si porta via questa landa via vediamo sì se comincia la storia del fa più valio lui con quel mazzo che io col mio impazzisco ve lo dico impazzisco la prendo male yes prendiamo un'altra isola tanto poi tutto il resto in mano vai dopo però posso fare bollas più un altro wildfire portarmi molto avanti sì sì un altro res qua cominciamo a farne un po' un improvise club fa quattro danni ok qui potrei anche decidere di fare augure ma lui improvise me lo fa in faccia perché tanto allora come primo spot secondo me faccio wildfire qua per cercare counterspell prendo il rosso non ho trovato counterspell a sto punto credo di fare l'anda bianca into bollas per cercare il removal per qualcosa il prossimo turno bene non l'ho trovato grande classico bollas miss vai ma in teoria a mana siamo sereni dopo posso fare un drifter avere un effimerate open è il terzo in tre turni questo cosa vorrei far notare questa cosa qua deve tirare per forza club sennò si brucia quattro sei danni praticamente no di più sette ok ci serve un removal qua faccio drift revocato pesco 2 vediamo ok ho trovato removal però credo comunque di vincarlo riordè insieme a otto carte soc già parla sopra soprayah per i prossimi turni qui passo scartando questa abbiamo bisogno di trovare lettudine in questo spot counter spero un altro di loro può volermi voltare qua in testa ci sto vai non posso ripagare qua blinkeremo drifter credo di proteggerlo anche con counterspell nel caso no va bene counterspell e preordain preordain sotto sotto ok ho pescato un altro removal quindi qui posso fare questo non ha senso attaccare con bolas potrei sparare lui attaccare avere doppio counterspell open per non andare in discard e cominciare ad avere mezzo clock nel senso che poi comincio a venerlo per 3 ho doppio counterspell che riprende counterspell sono a 10 non è che è tutto il tempo del mondo da perdere si purtroppo devo counterare i botti cosa che non mi fa piacerissimo però devo farlo si synth into synth fa veramente più value lui counter questo 4 synth sembrano tanti reckless prossimo turno facciamo archiomante ok dombringer è una cosa un blinco lui per attaccare per la counterspell allora facciamo dombringer che guadagna 2 devo avere counterspell open quindi facciamo bolas che prende preordain efimeri lo riprenderemo dal cimitero sotto sopra facciamo terra malmeniamolo per 2 vai dobbiamo cominciare a fare un po' di cose qua lui ha tantissimo mana tra l'altro ho doppio efimeri quindi posso fare l'archiomante efimerarlo fare efimeri su dombringer due carte per te credo che questo sia una buona carta da counterare ok stiamo a 11 posso minare volando allora archiomante riprendo efimeri effimero qua guadagno 2 effimero 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 qua guadagno 2 attacco col drifter faccio terra attacco col drifter vai abbiamo comunque i 96 archiomanti in mano quindi voglio dire ok qua cominciano ad esserci tanti samurai per terra lui gira una terra va bene perfetto devo stare attenti al clock questo mazzo che sembra una stronca volata contro botti ma non è cosiddetto perché siamo noi identi a chiudere quindi scattaterra pesca va bene beh non può attaccare io devo fare l'altro drifter adesso però oh meno male che ha concesso perché sarebbe stato lunghina ma inevitabilmente saremmo andati a pescare le two dinner e quindi riuscivamo a fare cose tipo mi uccido Don Bringer lo riporto allora abbiamo detto 7 blaster mi sembra che siano 7 blaster casting to the fire lo togliamo per il momento anche se potrebbe essere utile vediamo un paio di counters perché poi abbiamo messo 7 di queste credo che ci sia forse ma forse lascio due casting to the fire e tolgo i counters perché mi sembrava la versione che cool dota con tutte quelle l'anerte fatto un effimerate posso tagliarlo forse un kenku perché è lento è forte indubbiamente ma è lento cioè se troppa se turno 3 devo fare quello invece di salvarmi da un pezzo boh non so siamo messi bene ma non credo che sia realistico ok keep il molletto di inner certo di side loro giocano le relic dobbiamo trovare le mobile per quella ne abbiamo 5 nel mazzo comunque eccole qua wildfire sotto scred sopra quindi nel nostro avremo due lande neve e quindi potremmo farli non dobbiamo giocare sotto il suo trigger di prowess grande tenuto monolanda perfetto allora qua ciclo l'alanda prendo rosso vai poi possiamo fare drifter evocato e riportarlo di late to dinner il problema è che non togliamo quei pezzi lì però abbiamo bisogno delle nostre blaste eccola una dopo possiamo fare anche augure se no us dipende se tappa ora questo blu questo bianco faccio le two dinner se no è inutile farlo bianco rosso tra l'altro però fa niente non l'ha tappato non stupido preferisco così per avere doppio removal se bisogna come tappare e wifi vabbè ho brigi in mano per dopo vai no togliamo cosa preordain parola 2 3 prendo 1 riporteremo drifter in questo spot che lui è tappato out cioè non ha la possibilità di risposta pesco due carte bolt bolt mano rosso quindi faccio un bridge e passo vai tocca a te la terza landa ok e la terza bestia questo è preoccupanzio e che palle va bene l'andare già fatta ne avrai due dopo questo si attacca muore adesso gli tolgo uno delle due monastri direi che è meglio fare questa cosa lui mi toglie il muldrifter io però poi posso fargli lightning bolt il secondo bolas per evitare che menas qua mi possa dare dei problemi tolgo scred e pesco un altro scred allora io andrei di augure of bolas posso spaccarmi il cibo perfetto any order faccio questo facciamo bolt qui sopra mi spacco il cibo passo vai tocca a te abbiamo due remover per lui potenzialmente userò lo scred per toglierlo perché questa prende le spell in pila che mi sembra più carino in questo momento vabbè lui ok lo accetto dobbiamo tornare in uno spot dove abbiamo il controllo della situazione totale lui è comunque una carta in mano adesso gli paro il pezzo si attacca traderemo questo pezzo guarda uno e due tanto me non uccidi uno e te ne muore uno va bene ok non è rosso quindi non posso farci nulla allora brainstorm in maniera da toglierci via questi due punti facciamo rosso qua il fire qui sopra ci prendiamo il secondo bianco secondo me va bene qui faccio questo preordain archiomante potrebbe essere utile se lui sbaglia dei timing poi comunque più avanti passo devo evitare di togliere quella monocarta bianca però spacca prima questa di quella ok vado a 11 beh per lui ho scred allora qua faccio terra archiomante se lui spacca reliquia in fila tiro scred sul pezzo e recupero scred forse tiro blasta perché poi avrò scred dopo sono rosso no no non impila questa cosa scusate voglio dire impila l'abilità ho sbagliato a cliccare scusate recupereremo scred allora ecco però l'abilità è andata in fila senza potersi fare niente quindi un cazzo vabbè niente l'idea c'era faccio entrare ah però non targetta niente ok ok non avendo target ci sta sopra bebb direi poi terra ok ok no no mi ero perso il fatto che comunque lei deve targettare quando entra non è un trigger questa cosa funziona soltanto se no non funziona mai va bene va bene ok niente allora meno peggio di quello che pensavo si va bene faccio lui se tira tutti i botti su di lui va anche bene non è un problema gigante onestamente nel suo caso io vado di drift e lui ha questo per fare value è un'altra idroblast comincio a minarti beh che c'è tradava nel senso potevamo minare anche senza fare sta roba però fa niente anzi era meglio perché avevamo in mano lo scred per il 2-2 vai si era meglio implement non posso dirti niente perché è ingolore i miei bolt uno è andato giusto vai devo vedere i drifter ed è il secondo questo va bene beh adesso non rompe il pezzo peccato questo non fosse un ephemerate proteggiamo il nostro mull drifter attacchiamo per tre mi mangerai questo pesco al buio porto questa bello bello aspetta ve lo dico dopo bello vabbè poteva andare certo ha messo sotto un drifter che casting to the fire non mi piace hydroblast si certo c'è sempre il problema che il suo samurai è 2-2 ed è bianco soprattutto però riusciamo a proteggerci dalle spell che fa dalla ciume del mazzo se dovesse trovare una reclase e la tira veloce veloce seconda relico beh ormai abbiamo capito che quello non è più un piano dai terza relica che mi fa ottimo scred per il 2-2 questo può rompere solo sorcery ok mi ricordo mai vai vai si proteggeremo il nostro drifter fino alla morte possibilmente sua cioè dell'oppo ok 4-8-12 ci sono tre mi cambia se tireremo questo scred assolutamente su sto coso aspetto giusto a vedere cosa pesco attacco blinco il nostro mood drifter pesco 2 cosa pesco beh è un bringer cleric molto buono lo facciamo con la brainstorm aspetto tanto non sono in una situazione di frettissima vai possiamo tenerla per cercare qualcosa in risposta a qualcos'altro qui credo che blinkerò cleric sacca una pesca ah no vediamo come siamo forti noi ragazzi ragazzi 1 2 3 4 5 morto in 2 se non blinco niente e ho top un mood drifter 1 2 3 4 comunque morto in 2 se non blinco niente quindi credo quindi credo di non farlo di non farlo ah romperi che adesso allora lo faccio perché ripigliorei va bene abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato entrambi su questa cosa mi sa faccio drifter faccio drifter dalla ciima del mio mazzo tocca a te ok bella ce la portiamo a casa contro botti devo mettere molto bene sette blast di side hanno aiutato parecchio di nuovo sul draw ma non un po' più lenta perché abbiamo doppiato upland però abbiamo sempre la possibilità di fare appena possibile ah no non ho wildfire vabbè lo pescheremo però vabbè abbiamo un removal abbiamo preordain possiamo fare cosa cazzo 6 soulbound fin tanto che è pirata a nuvolare il tram perfetto ci vedo niente di male perderò così terra che mi dà removal per il prossimo turno vai casting to the fire no sarebbe forte casting to the fire contro un mazzo che fa gli uni uni ah va casting wildfire noi ci proviamo anche se giochiamo into counterspell cos'è lui un umano mago vabbè ok meglio qualche sul removal credo o su kenku suppongo non so se se preoccuparmi di snap di cosa preoccuparmi nella vita in generale contro un mazzo del genere cosa fai ninja ok qua c'è un removal dai volare a ninja non troppo un problema adesso che noi facciamo subito via questo che non ci piace particolarmente vai ecco ho tolto quel wildfire siamo un po' indietro di lande però recupereremo dai non c'è frettissima un altro ninja ah è la madonna ah moonblade quello che fa i tokenini non lo porta avanti di mana cioè di di carte però comunque se non trovo una landa si trova una landa stappata forte non è stappata allora forse cerco questo allora mettiamo ma bola sotto colpo lui vai ah no soltanto una landa neve non è bolt perché non sei bolt perché kaiser schifo ah sbagliato scusate bene dopo faccio che incubare sto cosa perché va bene io in questa lista ero abituato a giocare quattro bolt quattro bolt senza gli scred per questo motivo qua ok tante lande non neve ma è giusto così cioè ne esiste a saper leggere le figurine facevo tipo pescare giù giù o il red vai dopo sono quattro uno cinque vado a tre adesso devo fare kenku che non para qualcosa e lui pesca è tipo fatine senza fatine suppongo per fare i token è un'illusione aia potevo tranquillamente vincere questa partita l'ha recuperata fortissima non vuole a lui però vai dopo cioè adesso paro questo qua se posso e questo ninja qua ne passano tre e poi vediamo intanto lui fa il terzo pesca due in due turni ci sta ma non c'era quello che deva volare mi sa eh snap immaginavo ce l'avesse però ho detto boom si capisce cosa fa nella sua vita questo allora cast into the fire è forte e le 4 red elemental blast togliamo let to dinner don bring il cleric leggiamo le figurine e poi eh che qua abbiamo visto che lui ha gli snap quindi non mi fa proprio gioia tenerlo nel mazzo forse un counterspell perché tanto gioco tutti i removal un paio di counterspell credo tutto il resto mi piace counterspell è sempre una spell che quando ho tempo di ragionarci cioè quando ho il mazzo aperto tipo su mtgo sideo molto diversamente da quando ho il mazzo chiuso non sulla cioè tipo in mano che scorro non lo so devo farmi la lista delle sideate per tutti i mazzi che gioco perché vado in palla si oh keep certo abbiamo hash barnes che non è una figata però possiamo comunque sistemarci le terre poi magari peschiamo l'anda stappata di secondo per fare wildfire ah le fatine quindi ora dobbiamo preoccuparci anche di spellstatter ok perfetto prendo bianco ottimo casting to the fire è proprio una bella figurina secondo me sto match up perché toglie due pezzi di solito qui fa ninja noi dopo faremo bolt peschi una figurina inutile fare il blur day in ora poi mi tengo open blast faccio dopo tanto poi devo ciclare a fine turn insomma fare cose c'è che fai? niente fine turn ciclo beh alla fine è fatine con dei ninja bruttini tipo moonblade main deck non mi sembra incredibile ancora un altro cast into the fire no keep tuo ti faremo questo cast into the fire a meno che tu non faccia fine turn a starter che non mi cambia la vita in realtà per evitare che tu sningi ok ok quest'appo faccio il mio bel mull drifter anzi qua secondo me faccio il mio bel archiomante riprendo red elemental blast vai così dopo facciamo drifter coperto da blasta va bene va bene me lo teneremo per il counter su drifter sempre si tanto questa è sta sempre sotto cast into the fire e poi viene bloccata soprattutto soprattutto amente vai facciamo drifter facciamo questa stappata che mi dà la possibilità di fare eventuale cast to the fire se dovesse averne bisogno attacco mi fa snap sul pezzo tanto quanto avrà sedato le bebb per le reb no però il disper ci sta va bene io tanto attacco col mio archiomante te lo dico se vuole parare col suo 3-2 no bravo bravo ti vedo sagace minchia che brutte ste carte siamo mega bloccati perfetto vai posso fare poco non vorrei farlo sningiare ok immaginavamo che sarebbe successo il problema è che io ho in cima terra terra che fa schifo vero fatina dov'è dov'è il mio value dov'è vai posso solo parare il 3-2 ma cazzo io ho un'altra terra in cima che schifo devo parare il 3-2 per forza che ormai è un 4-3 molto male 4-6-8 mi fa un altro 10 siamo proprio sfuggito dalle mani sta partita sono curioso di vedere cosa pesco ma non recuperiamo mai più purtroppo non abbiamo neanche cannonata nel mazzo quindi altra isola va bene gg per proprio peccato g1 mi sono rimbambito su quello scred e vabbè g2 abbiamo fatto comunque poco cioè nel senso no abbiamo fatto tanto ma forse non ho pescato del value beh no è questa brain sono qua che c'è un po' affrontumati termiash barrens per dopo però non facevo drifter con blast dietro comunque drifter era forte in quel momento del board devo riguardare la partita siamo sul drone non abbiamo un rosso quindi muligheremo meglio di prima metto via un bringer cleric vai siamo contro mono red non lo so se questa cosa deve abbassare le leghe da 100 a 60 play point di conseguenza anche i anche i come si può dire i premi sia un'ottima cioè sia un modo per far si che non ci siano più così tanti mono red nel formato bla 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 wildfire cerchiamo un removal no mi è entrato una terra però che non fa proprio schifo vai però lui ha doppia monasteria torno 3 prevedo un'infilata di liani da cui non ci riprenderemo più tipo doppio posto monasteri beh insomma comunque ne prendiamo 6 oppure di più di 6 andiamo a 8 no 6 8 8 sbagliato scusate facciamo terra bianca bolas per cercare il botto non lo trovo trovo un ottimo devo prendere effimerit sbagliato siamo veramente super indietro lava spikes siamo morti ce li tira in faccia non possiamo farci niente andiamo a 2 poi ci attacca una delle due passa potevamo fare nulla questa partita allora 7 blast fuori kenku fuori casting to the fire perché è la versione senza i pull dota i counters per me sembrano lenti le tune ci può aiutare posso dargli un efimerit vai vediamo di giocare una partita di magic perché la prima non abbiamo giocato ok questa ha cleansing wildfire di secondo vai e non fa monastere di primo che rispetto a prima è già un passo avanti qua mi vado a prendere il bianco per poter tirare questo cleric e perché è l'unico colore che ci manca un ottimo scred ricordarsi che scred fa da anni c'è scritto sopra che bello ne fa due si un accendino che dovrà essere ucciso aspetto a farlo prendiamo un altro bianco perché tanto ho tutti gli altri colori qua vai e poi soprattutto posso eh blinkare il nostro donbringer in the case qua mi tirerà un botto in testa certo certosino guadagno due sparo questo qua vai tocca a te abbiamo efimerit e counterspell counterspell guadagno due guadagno altri due poi dai 21 23 montagna e reclass ok ottima questa pescata questo prende efimerit vada 26 si qua potevo fare del value ma in realtà con in mano questa ah no tanto non ho altre blaster va bene andavo togliermi le removal da sta roba e basta si fa passare si fa castig lo faccio passare lo gestiamo dopo si vorrò fare skewer da qualche parte a questo punto io aspettavo di targettare di farmi targettare il pezzo a meno perdevo anche le due vite che faccio di questo però va bene ci sto rebound dove sei quasi devo fare comunque efimerit su archiomante vai un hydroblast tocca a te questo va bene perché sig si voglio dei urca voglio dei mul drifter tipo per favore e invece cosa pesco vai dai su datemi delle carte che pescano carte urca miseria tre di fila però cioè sembra che stia pescando un po' meglio di me ah eccolo qua momento per cui sarebbe comodo il tocco in pianto mi parte questo però se lo tiri te ne faccio partire uno io lo fa comunque sono cinque danni ok sta bovesco ti meno vai abbiamo risolto triplo che sig flame breeder vediamo adesso fa il quarto vaffanculo ok fa lui fedelanda che è al mercato che mio padre comprò ma io devo sempre poter pescare beh si fa un altro accendino ok questo ci torna utile però dopo vediamo quando ce lo tira perché sono degli spot dove è meglio non tirarlo vai ok ci può fare 6 danni con quel botto a noi non va proprio benissimo si qua secondo me vale sempre la prima attaccare branza della morte hai due in mano io poi mi sciafflerò via con la fantastica isola che ho messo in cima e poi sono nelle mani del boh vediamo cosa troviamo siamo a 14 anche l'etudinner non farebbe schifo da pescare posso dire cazzo l'etudinner sarebbe proprio esagerato però è 1 per 38 carte non lo pescherò mai però il drifter ne sa no piroblast non mi aspettavo che si giocasse ancora vai non male che non ci sono ninja rossi sennò devo avere paura pure di quelli pesca 3 carte in mano 0 per me vai il flood è reale 22 terre comunque sono proprio tante ecco un reckless dicevo 22 terre sono proprio tante tante secondo me vado a 5 archiomante un archiomante se se prendo effimere ti ha un botto sopra non faccio niente credo di no credo di prendere il brainstorm mi fa vedere più carte tanto lui la reb non ce l'ha se vediamo le two dinner qua magari no però mettiamo questo e questo e facciamo preordain comunque stiamo a 5 non siamo serenissimi vai se paro te e sparo lui tanto morirebbe comunque il mio pezzo e ho paura che questo ci faccia più danni detto che lui deve avere veramente due lande in mano per non uscire in questo turno a è è rimasta viva lei non muore visto bravo cosa hai niente vai non capisco non capisco cosa tu possa avere sto pescando dell'elante paro paro mi muore il pezzo provo a parare mi muore il pezzo tanto con questi danni non li vorrei prendere mai speriamo di pescare un peschino non una terra o un removal late to dinner sempre top pescata e invece beh brainstorm allora mettiamo sopra sopra così sappiamo che questo qualcosa hit e prende un counter per almeno sicuramente quello perché è l'unica cosa che c'era vai direi di no una nanda per te anche lui secondo me sta flood anche senza secondo me sta flood dando parecchio bello mettere sotto un multrifter non male vai questo mazzo dovrebbe fare del value è un groove sempre il pezzo che mi fa più schifo di tutti stiamo cercando late to dinner come se fossimo dei forsennati ma purtroppo adesso lui fa doppio botto e ci ammazza ma zio dovevi fare incredibile questa seconda partita l'abbiamo giocata un po' di più però non è che mi sia sembrato di essere mai messo bene 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 se posso dire siamo partiti bene perché abbiamo ucciso botti quindi è sempre molto bene siamo continuati abbiamo continuato un po' malino se posso dire questa mano è keepable nel senso che fa del value siamo sul draw vediamo contro cosa siamo abbiamo mercato due mono red e un mono blue faccio un recap perché mi sono staccato un po' dal pc e poi ho ripreso ok evolving wilds potrebbe dire qualsiasi cosa forse famigli però con l'evolving wilds per giocare sopra gli islandi di ponza vai faremo wildfire di secondo a meno che lui non faccia bounce land sulla nostra randa ma comunque non mi fa mai impazzire fare wildfire non per fare value poi c'è anche un colore qua io forse avrei fatto prima fetch poi scry perché ti rovino un po' la scryat cioè se ho obbligato a decidere su due carte invece che su una si famigli famigli ok allora il nostro kenku in questo caso diciamo che fa un po' schifo come threat trick trick come volete chiamarlo chiamatelo è proprio brutto perché con gli snap chiaramente kenku fa schifo famiglio ok vabbè famiglio verrà ucciso dal nostro scred dopo che abbiamo fatto la terza terra neve voglio fare brainstorm per vedere se trovo qualcosa un altro wildfire è molto carino allora cosa non voglio presumibilmente un'altra land artefatto e che che però non posso fare adesso facciamo che ho detto prima kenku e poi lui qua faccio la terza landa neve e facciamo scred qui sopra tocca a te vediamo quel wildfire veramente se dovesse fare bounce land potremmo pensarci si detto che veramente non mi piace troppo come mossa però mi dai questa opportunità ti mando indietro di un po' il problema è che non credo che sia una partita che finisce in fretta questa quindi boh facciamo così dai sto open di counters però cioè non è una partita di quella che dice vabbè gli tolgo una landa gli metto pressione faccio cose non credo proprio possiamo fare una delle land tappe e stare open di counters per vai o di ciclo land anche se abbiamo mezzo cioè abbiamo sciaffalato via un kenku potrebbe essere in qualsiasi zona del mazzo quindi cambia effettivamente poco a 5 fai drifter credo di farti un counter spesso questo drifter hai 3 carte in mano non è che ti voglia proprio far pescare tanto forse qua allora scred è buono secondo me faccio tipo landa sicuro 1 2 e 3 faccio drifter evocato poi se potevo addirittura farlo no ho sbagliato vabbè ah no giusto pesco e muore eh ho tapped out facciamo un archeomante che riprende un counterspell sfruttiamolo ora vai abbiamo sfruttato il nostro vantaggio umano vediamo un altro drifter no un archeomante che prende un preordain va bene archeomante archeomante forse possiamo pensare di uccidere il suo però nel frattempo ok allora qua farei uno scred qui se fa counter ci combatto perchè tanto poi faccio value io lui no ha fatto il tipo counterspell facciamo late to dinner allora se faccio una landa blu ora posso lasciarmi stappato credo rosso bianco se peschiamo effimerite possiamo effimerare subito il nostro archeomante ok Kenku di nuovo Kenku vuole farsi vedere sta partita intanto se ti gioco prendi uno snap grosso come una casa due e a fine turno faremo che ciclo la landa due carte in mano per te uno è preordain che l'avevi ripresa va bene uno era la landa due top secondo me uno era questo uno top uno bottom quindi ha rilasciato il pezzo top questo è forte ci serve un effimere c'è qualcosa per riprendere scred dal cimitero è forte perché rallenta tutto e se rallenta per lui è meglio prendo questa stappo pesco effimerite vabbè ascolta Kenku secondo me ne sa cioè non ne sa particolarmente però può dire la sua la questa anche perché in effetti può darci una race anche se il primo è firme credo di farlo su archiomante forse lo faccio anche già subito vediamo lui ha una carta in mano con questo mi vado a prendere secondo me questo scred per cercare di farla race vai a fine turno mangeremo il food va bene si quindi lui ha uno snap in mano per quella lambda stappo pesco effimerite qua riprendo effimerite facciamo brainstorm come prima cosa oh carina credo di mettere via questa e questa e fare wild fire qui ops prenderemo un altro bianco questa non è proprio la cosa che volevo però fa niente lui ha due in mano immaginavamo che sarebbe successo vorrei effimerare questa con effimerite riprendere questo counterspell e fare counterspell qua vai il prossimo rianimo una landa no secondo me riprendo lo rifaccio su orchiomante che cazzo ne va un altro è il terzo snap che mi fa vabbè ho una carta in mano noi comunque i pezzi di kenku possiamo rifarli ok siamo comunque avanti noi nella race non dobbiamo farci fregare dalla combo quindi dobbiamo stare un attimo attenti però devi costruirsela tutta e ha una carta in mano non ho un bolt no peccato non una partita facilissima da nessuna delle due parti questa secondo me cioè devi giocare proprio tight apri ordine una bella figurina per iniziare bollas counter spell ci piace facciamo effimerate su di lui e animo questa meno per 5 facciamo terra tappata non mi cambia particolarmente la vita 5 a te vai prossimo turno siamo letali quindi se non fa una cosa che ci ammazza tendenzialmente eviterei di fare cose questa non ci ammazza o non ci impedisce di ammazzarlo soprattutto ok cance a parte questo è un incolore ma ho un'altra landa effimereremo archiomante ok perfetto ce la siamo portate a casa noi ora di side andiamo a mettere 4 reb fine della side direi perché i casting i casting to the fire non fanno nulla don bringer può spaccare incantesimo quindi possiamo anche lasciarlo che in cui ci ha fatto vincere la partita possiamo girare intorno agli snap non va bene lo lascio tolgo un counter spell perché ho messo le blaste che qua sono dei counter spell non sono effettivamente delle removal e forse una branza che è il peschino che mi piace di meno in power l'ho sempre detto continuerò a ripeterlo proviamo così non abbiamo 8 per il cimitero ma non mi viene in mente 8 per il cimitero monodirezionale che possiamo sfruttare bene contro famiglie cioè relic arriviamo a un punto che anche i nostri archiomanti sono forti quindi diventa tutto un po' più complicato da gestire nell'economia del cosa ti tolgo quando te lo tolgo questo comunque secondo me è uno dei mazzi più belli che ci sono in power cioè ad avere il tempo di studiarlo sarebbe veramente figo tra l'altro control se faccio tremare tutto scusate control è proprio l'archetipo che ti dice studiami tunami al massimo e non perderai mai una partita vorrei far notare come sono arrivati i miei 100 cast into the fire che ho ordinato i miei 100 lembas sono molto felice grazie di avere questo supporto nei miei acquisti e via vediamo un po' cosa capita ok abbiamo un peschino una reb del value va bene non è una partita veloce lo sappiamo l'abbiamo capito qua potrei partire di terra tappata perché se peschiamo comunque cleansing wildfire non vedo perché non provarci a giocare sull'auto ah perché lui può vedere revoche niente revoche existence ok si revoche existence era forte contro di noi tentiamo proviamo a non mettere giù un altro artefatto per evitare di farci fare un dust to dust che è una carta che possono sai dare contro di noi qua credo di fare preordain questo è troppo presto questo va bene e gli togliamo il motore di vantaggio vai pure tocca a te non è una mostra che mi piace particolarmente fare però secondo me è buona in questo spot perché comunque inizio partita lo aiuta a scolpirsi la mano poi ne fa un'altra però fa niente però l'idea c'era in realtà potevo fare drifter e poi lo rianimo pescavo 14.600 però fa niente non voglio giocare questo faccio wildfire qua web ok aspel pierce non me l'aspettavo vabbè mi aspettavo beb quindi tanto quanto noi poi possiamo provare a fare un archiomante che riprende quella red elemental blast e fare i turni archiomante into drifter è vero che vai tapped out però secondo me in questi turni a meno che lui non faccia cose strane è fattibile farlo dip analisis archiomante riprende pierce riprendo bebb cacchio pierce è forte cioè nel senso non lo riesco a capire non lo identifico benissimo in famigli aia noi più che altro avevamo bisogno di sciafflare perché abbiamo messo sotto late to dinner che è un'ottima spell per fare value solo che non l'ho vista forte come giocata è vero che si sarebbe preso un pierce gigante sui denti però un altro wildfire non è male perché sta fuori il suo pierce possiamo pagarlo se qua vuole fare pierce più un'altra spell mi va bene è un trade che accetto sicuramente pierce lo pago se poi vuole farne un altro no non ce l'hai ok prendo bianco e non faccio il secondo artefatto vai finché non ho tipo un counter spell per poter rispondere al suo è vero che lui non è doppio bianco però non mi voglio mettere nella situazione in cui gli do effettivamente una spell in mano se pesca il secondo bianco così potenzialmente lui ha tre carte e non ne ha quattro tra l'altro ha fatto pierce qua noi adesso possiamo fare prima drift beh quanti ne giocherà di spell pierce dai c'è terra 1,2,3,4,5 e vorrei pescare più carte ok ottimo counter spell comunque anche passo adesso abbiamo del fantastico counter spell e un altro fantastico efimerate che direi che mi sembra una bomba no io voglio distruggerlo se mi fa counter su beb gli faccio counter spell lui ha visto che ho ripreso beb tra l'altro reb vai vai ok prendo due poi ti attacco per tre tra l'altro ho un altro archiomante in mano protetto da counter spell quindi top allora questo beh non ti attacco per tre questo prende lo faremo su archiomante chiaramente pierce continua a non capire la sua presenza cioè boh si forse è forte contro mono red che becchi tanto però tendenzialmente mono red non è un brutto match up tra l'altro così ho soltanto un efimerate open ah ah si perché forse abbiamo risciafflato voglio farla landa non credo che sia essenziale quindi facciamo wildfire qua beh ma vediamo se non pesco una landa normale faccio una landa artefatto ma prenderemo un altro bianco così poi siamo contenti tanto non pareremo mai tattacco open solo counters però abbiamo una mano ben fornita secondo me muro credo che counterspell ci stia forse qua potevo addirittura stare indietro per parare con un drifter vabbè lui ha tre in mano noi un po' di più per fortuna allora a questo punto facciamo tac tanto il rosso è il colore che abbiamo meno yes prendiamo un altro blu c'è lui con te riprenderò re d'elemental blast direi l'attacco vai potrei fare anche bollas ma in realtà stiamo girando la partita dalla nostra parte quindi va bene già così siamo abbastanza in vantaggio deep analysis counter a land step blinkeremo drifter bomba direi che siamo in una botte di ferro un archiomante che riprende efemerate ma gli togliamo sto cosa così attacchiamo con anche l'altro archiomante ma magari aspetta prima facciamo tipo preordain to augure of bollas tipo sotto sotto a posto augure off bollas prendo brainstorm any order facciamo terra blast attacco 5x3 e poi comunque 3x5 insomma diventa un po' più veloce il calcolo vai che ci propone che ci propone il nostro avversario in questo spot mi sta veramente prendendo bene devo dire sto mazzo non lo monterei così presumo cioè tipo il drop a 2 ti serve gli auguro softball sono necessari probabilmente vorrei un ponte in più e non so se monarca dipende dovrei giocarlo un po' per capire monarca se vale la pena che cioè se vale la pena di giocarlo o meno si tanto sai già che se fai counterspell io ho efimerate e altre cose no ok però comunque cose vorrei provarla a fare adesso lo mi tirerà prohibit su questo no neanche sul secondo efimerate vado a 7 ok ecco i due efimerate targhetto le mie due il mio stesso sempre lo stesso archiomante se può fa per fortuna se può fa perché va in pilla rebound e poi castilla sperli questa cosa mi la scordo semprissimo via beh qua è uguale cioè ho pagato un archiomante 1 invece che pagarlo 4 e riprendo e riprendo effimere si beh qua siamo veramente super avanti nella partita cioè una roba drammatica e poi lo blinkeremo mi scelgo le carte da tenere insomma attacco con tutto abbiamo veramente la fiera del removale del counters per qua scarto queste due queste tre terre vai dovevo scartare late to dinner si il matchup non fa niente effettivamente late to dinner prende giusto lavora su dei counters per le bla 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 però secondo me facciamo tu sei 8 questi sono 1 2 3 4 5 6 7 peccato counter su questa cerchiamo un bolt adesso eccolo e boh via via mostramo il bolt è buona abbiamo vinto eccolo qua si è un po' scomodo per questa cosa del però fa niente ok ce la siamo vinta bene siamo 1 1 scusatemi 2 2 vediamo l'ultima com'è ultima partita siamo sul play vabbè dai è keepable questa mano secondo me rimuovano un peschino una carta che potrebbe o non potrebbe essere forte in questo matchup credo che il bianco sia l'ultimo colore che voglio se pesco un counterspell posso anche decidere dipendentemente dal matchup di stare open ok fate casting to the fire molto bella è stato proprio per dire ci vorrebbe un bel casting to the fire in questo matchup efemerid numero 2 non mi interessa vai ok le cuffie che poi mi arriva il caldo in faccia ok sui broodin devo dire che hanno un art più bella della mia 2 bottom oh bello cleansing wildfire l'unica è a vedere se lui ha spell pierce ma tanto quanto voglio dire potevo aspettare un turno ma secondo bianco secondo bianco mi piace sempre averlo tocca a te abbiamo volt fare vantaggio mana in questo matchup devo dire che non mi dispiace affatto passo sta brainstorm così senza le brainstorm non mi fanno impazzire credo le taglierei ah lui è ur fico è ur scred control ok va bene non le fate va bene va bene quindi i nostri casting to the fire secondo me G2 possono uscire mi ricordo che ho visto una lista del genere e ho detto mechio che ficca lui salta all'endrop che non è malissimo in realtà scancella voglio farlo lasciandomi open il mana di counter spell in realtà adesso poi appoggerò la landa esilio questa facciamo branza qua non sembra avere niente ok allora cosa non voglio casting to the fire presumibilmente questo bolt è troppo presto però mi tengo open efimerate non credo di blinkare tutto subito perché potrebbe avere bolt ad esempio o scred mandarmi ok ripiglio bolt ok tra le due era la meno peggio chiaramente vai ok questa è una figurina fortissima l'orient revealed ok questo bolt gli arriverà in faccia prima o poi perché tanto brainthorn via tu via tu facciamo landa per fargli credere davvero il counter spell direi e augurio di bo certo augurio di bolas non trovarò niente 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 mettiamo sotto un archiomante che non è bellissima come cosa se posso dire però il counter spell io non ce l'ho quindi andrò di terzo augurio di bolas prendo questo preordain cerchiamo il meglio per i prossimi turni non doppia landa che landa che il turno dopo ce l'ho in mano un altro efimerate buono ok non ho voglia di farmi counterare un efimerate senza protezione cioè non mi sembra anche perché poi si vuole buttare sopra un counter spell qua si non abbiamo sto gran clock però wifi siamo sempre open di efimerate prendiamo un altro blu attacco vai no credo di uccidergli una una pedina tocca a te questa è sembra ma non è una carta così scarsa in questo mazzo certo cioè nel senso abbiamo tanti blocchi e dei removal tra l'altro non gioco tipo i giorni che sono sempre rimuo molto fico da avere prendo questa bello attacco per due vai fare così proteggerò fino alla morte questo auguro of bolas per l'altro perché mi fa value se risolvo questo efimerate non è vero non mi fa value però l'idea c'era no no io volevo fare vabbè niente volevo fare delle cose tipo un altro efimerate però minchia ragazzi proprio l'arroganza di questo auguro of bolas inutile vai doppio missi in un turno solo ti fa capire perché non sono proprio la carta del secolo mettiamola così ok più o meno vediamo se riusciamo a trovare un removal ok bella madonna doppio di quelli la doppio remove a lui in mano che sbatti ragazzi è la monarchia a sto punto della partita che noi peschiamo una terra ci fa fare con seed game e andiamo alla prossima direi l'avevamo trovato però non avevamo un peschino avessimo trovato brainstorm qua eravamo fortissimi non è vero perché non era più un 1 ma era un 190 190 beh abbiamo tutte le cioè abbiamo 11 carte allora kenku forte secondo me in questo matchup donbringer meno castito e fire mi sembrano bruttini gli scred non mi piacciono particolarmente 64 togliamo i counterspell secondo me forse lascio un counterspell tolgo le branze e lascio questi faccio value con i pezzi il suo mazzo è UR noi giochiamo 11 blast di side secondo me ci può stare doppio counterspell dai non posso kippare non ho blu cazzo veramente bene ha preso in giro kippo per il meme kipperemo detto non ho il blu mi sembra corretto intanto lo è omolligato vai preordini vai potrebbe avere i casting to the fire per togliermi questa lambda no cicla isola e fa preordine ok questo è l'ordine giusto fare uno shuffle effect e preordine secondo me in power per quanto meno bene ok belle carte urca 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 tirulero oggi splende il sol cleansing wildfire se mi vuoi fare counterspell su questo vabbè tanto abbiamo tutte le isole del mazzo in mano ok pensavo che avessi dietro counters però ancora secondo me any order vai pure tocca a te cazzo mi fa monarca che fastidio e va bene vai siamo open sopra il suo removal e via mono cioè nel senso un removal e nient'altro per favore doppio removal ok ci sta a trampol quel cesso peraltro ok non posso ah no vabbè finirete affizzlato ok augurio abbiamo combattuto su questo augur of bolas prendo questa healer blast ti tolgo questo cesso vai pure tocca a te una carta andrei a 2 3 e ha tirato 3 removal è vero che ne ha perché avrà 4 e 4 magari anche dei fire ice per tappare però noi proviamo a rubargli la monarchia monarchia è sempre una meccanica ultra pericolosa in questo momento vai tocca a te archiomante è fico archiomante è molto bello a 5 vorresti pescare 3 ti dico di no guadagno anche 2 fantastiche vite secondo me ce la portiamo a casa noi ma forse vorremmo fare in più no non credo no va bene così va bene così direi no vabbè dai ho un preordain per cercarmi il terzo colore vai eccolo ma sopra sopra tra l'altro vai prossimo turno faccio terra tappata vai sì l'orien è veramente una carta da comprare vai pure tocca a te qui non ha rosso dai ma c'è una malabria super stabile infatti sì prendiamo blu vai prossimo turno ne possiamo fare addirittura un altro coperto da reb vai quelli sono veramente dei peschini super belli monarchia è sempre un problema se me la fa non me la fa grazie bolt allora io potrei decidere anche di fare augure of bolas però no credo di fare così proteggendomi dal primo counterspell con questo vabbè vai giochiamo fingendo di avere counterspell lui se ne sbatte il cazzo e porca grave errore il mio devo fargli bolt su un pezzo vai ok un token da gestire però però gli abbiamo detto puoi fare morca miseria grazie che non hai fatto monarchia questo questo late to dinner non mi dispiace facciamo questa terra auguri of bolas che prende niente chiaramente ah no va hydroblast vai abbiamo un buon blocco anche secondo me questa non è una spell da far passare ok se ok ok 4 carte in mano per te prendo 2 non un problema gigante stapo pesco facciamo questa terra late to dinner qua mi tengo stappati così vediamo bello ephemerate tocca a te ok poi abbiamo late to dinner con archiomante che è una cosa molto bella in realtà qui chiaramente non voglio giocare con un ephemerate sotto il suo counterspell non mi serve beh oddio secondo me posso guadagnare ora le vite se mi fa qualcosa faccio archiomante riprendo le 2 dinner cose niente stappo devo tappare una landa rossa in più rosso 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 una pila lunghissima per un archiomante che secondo me se adesso mi fa iniziativa perdo, perfetto forse qui ho esagerato, ammetto, non è iniziativa, monarca scusate, 5, non è monarca, meglio pesco 3 ho esagerato, ammetto di aver esagerato vai, ho esagerato e il mazzo mi punisce, no non dovevo lasciare, non dovevo concentrarmi troppo su quell'archiomante mi sono portato veramente troppo sotto di figurine, adesso stiamo indietrissimo vai e non posso neanche provare a fargli quel pezzo con prowess perché la mia unica protezione è questa in questo momento, quindi sono exclude, non posso dirti di no, vai peccato perché Kenku era proprio un ottimo drop da fare vediamo un po', oh, meno male, non c'era il counterspell dietro anche per questo, siamo contenti eh, Reb non fa nulla su questo board, però è forte, generalmente forte questa è scry vai scry di nuovo che so, se posso trovare la solista su twitter perché è molto interessante beh, sì, l'ho chiesto al momento sbagliato, tipo posso guardare cosa mi ha messo di side però è molto molto bella che mi ha detto di contattarlo in DM molto gentile ok proviamo a vedere se ha la peb per la nostra Reb perché questa ci ammazza il turno dopo ce l'aveva poteva forse farlo pre-combat non è la migliore pescata che potevamo fare qua possiamo prendere un'ottima Hydroblast per gestire il tutto Archiomante che prende Beb, Reb e vai, ottimo pescatino, vai tocca a te una carta in mano per te, due carte in mano per te, una carta in mano per me bravi al top deck, di momento ne abbiamo tirato una discredita schiappata pescatra posso parare con questo augure senza problemi abbiamo messo sotto effimerite però non mi fido è bella Frantic molto bella ball su drifter ok 5 vai un altro register dal top del mazzo bravi sempre, devo ammettere vai due carte in mano per te non lo so se abbiamo fatto bene perché come sempre rischiamo la morte da monarchia però cazzo pesca 4 pesca 4 è forte pesca 7 è sto turno cucchiava a 0 in mano aia dolore al cuore quella carta devo giocarla anch'io passo quella carta è veramente da giocare in sto mazzo secondo me ti fixa il mana ma si ti prende solo le isole puoi giocare forse un ponte in meno è una terra doppia isola però ha pescato tantissimo lui ok fortella quella possiamo sempre millarlo cioè attacco passo lo uccidiamo prima di mil che di danni no no allo stesso modo con la nostra 1-1 si adesso lo uccidiamo prima di mil però ha fatto top no non ha fatto top top ok scraia beh poteva fare prima scraia vabbè fa niente cambia poco non mi permetto di di giocare con il suo mazzo fin tanto che non non ho capito cosa sta facendo fling ci spero chiaramente non succederà mai che questa cosa risolve ci sta 7 carte in mano sono un problema gigante fling porca miseria che bella lista che sta giocando lui porca miseria il mazzo secondo me è ok cioè questo mazzo è molto bello però va play testato una botta non come me che l'ho preso adesso e poi ci provo non sono d'accordissimo con tutte queste scelte tipo vorrei il ponte bianco blu qui sopra secondo me tipo i fiammi mi piace le due branze non mi fanno impazzire come carta presumo giocherai 4 bolt invece delle scelte delle lande neve però a parte questi cambi che non mi sembrano drammatici forse giocherai dei giorni turn over cioè tipo 4 2 giorni turn over tagliando una brainstorm cioè qualche removal di questo tipo fico vero giocattolo perché secondo me è molto molto bello noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie per la visione!